Il 2 gennaio saranno trascorsi due anni dall'incidente che tenne col fiato sospeso la città di Fiumicino. Era una giornata di forte vento e di piena del Tevere quando la grossa imbarcazione abbandonata da decenni nel porto canale si scontrò con il ponte 2 Giugno. Il barcone, lungo 30 metri e largo 6, fu allontanato con la promessa di un repentino smantellamento. Si sono poi susseguiti i sopralluoghi da parte dei tecnici della regione ed è stata annunciata una gara d'appalto ma ancora ad oggi la barca è ormeggiata sulla banchina rappresentando un serio pericolo nel caso di una nuova piena. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale Stefano Costa che ha richiesto un accesso agli atti per comprendere i ritardi nelle procedure di rimozione. Le novità sono che dopo aver sollecitato da mesi e mesi e mesi quello che era un intervento abbiamo visto tanti comunicati stampa da parte del nostro sindaco per quella che era invitare la regione a provvedere a quella che era questa difficoltà perché se questa si mette di traverso succede il guaio serio. Ho fatto una richiesta di accesso agli atti, sono passati mesi per ricevere risposta, in quella che è stata la risposta la leggo testualmente. Si comunica che non esiste corrispondenza fra questi uffici e la regione Lazio in materia. Allora io trovo assurdo aver fatto tanti comunicati stampa nei quali si sollecita la regione perciò solo su carta ma poi all'atto pratico non esisteva uno straccio di documento per sollecitare da parte degli uffici di questa amministrazione la regione Lazio a provvedere e stiamo ancora così. Se questa barca rilascia un'altra volta ristrappa le cime il guaio è serio. Abbiamo sentito anche la parola di un tecnico per comprendere meglio gli effettivi rischi e le possibili operazioni da effettuare per la rimozione dell'imbarcazione. E' chiaramente ormai un relitto di una certa dimensione quindi potrebbe essere il rischio che potrebbe affondare lì sul posto oppure nella peggiore dell'ipotesi finire di nuovo contro il ponte come già è successo in passato. Abbiamo visto che è parecchio inclinata ecco che cosa è che la tiene su attualmente? L'inclinazione è dovuta probabilmente al fatto che già tocca sul fondo. Ci sono delle cime di ormeggio, dei cavi che la tengono ma è chiaramente una situazione precaria non so se possa durare altri 30 anni. Per rimuoverla tecnicamente che cosa si può fare? Andrebbe demolita perlomeno la parte sopra, tutto quello che si può alleggerire si deve alleggerire poi la parte sotto è chiaramente anche pericoloso muoverla perché potrebbe nel muoverla proprio andare a affondare nel bel mezzo del canale. Non è una cosa sicuramente semplice.